Buongiorno a Flavio Palmieri, giocatore della Totti Soccer School per la categoria 2011. Oggi avete vinto contro il Pescara, partita ribaltata perché stavate perdendo all'inizio uno sfortunato autogol, poi comunque il Pescara era riuscito anche a fare il gol del 2-1. Siete stati bravi a rimanere con la testa in partita, l'avete ribaltata. Come l'hai vissuta? Bella, molto combattuta, difficile, però molto bella. L'importante poi alla fine era vincerla, ci siete riusciti. Qual è l'obiettivo della Totti Soccer School categoria 2011 in questo torneo? Provare a vincere. Provare a vincere. Un commento sul torneo in generale e sull'esperienza qui ad Alba Adriatica? Bene, belle stanze, belle vinci. Ti stai divertendo, è una buona opportunità per fare squadra e immagino anche fuori dal campo. Allora un saluto a Flavio, grazie per l'intervista e ci vediamo sui nostri canali.